che conosceremo una puntata che in questa chiesa come dire abbastanza sconsagrata potrei dire totalmente sconsagrata non si può celebrare messa senza un prete ma senza soprattutto un bravo conduttore quale egli è il signor Gaetano De Martino alias Don Gaetano buonasera buonasera bentrovati e benvenuti a promossi scorsi eccomi qua pronti per un'altra puntata sulla mia destra abbiamo Antonio Parnoffi il nostro luccologo